Allora, credo che possiamo iniziare, abbiamo fatto passare anche il quarto d'ora accademica, anzi sono 20 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo convegno, seminario, questo momento di riflessione che si inquadra all'interno delle tante manifestazioni che si stanno tenendo in concomitanza con l'edizione 2013 dei campionati nazionali universitari che si svolge qui a Cassino. Non è un caso, ormai la statua, l'eroe di Cassino, l'atleta di Cassino a seconda come volete denominarlo, come vogliamo chiamarlo, è diventato un po' l'emblema volutamente di questa edizione dei campionati ed è grazie a questa idea, cioè quello proprio di farne l'emblema dei campionati nazionali universitari che siamo riusciti ad ottenere il prestito per il momento temporaneo della statua che adesso potete ammirare presso il Museo archeologico nazionale di Cassino e la cui copia è giù nell'atrio, ancora non sistemata benissimo perché ci sono degli schermi che esistevano prima del posizionamento della statua, ma ci stiamo pensando a dargli una collocazione più degna. Devo dire che sia il ritorno della statua sia l'utilizzo, questo convegno sono la dimostrazione di come innanzitutto l'università può contribuire ben al di là di quella che è la sua mission istituzionale, ricerca e didattica allo sviluppo sociale e culturale di un territorio. Questa statua è molto sentita, percepita come appartenente a questo territorio da tante persone, io da rettore ho fatto tante cose, penso di averne fatte tante, forse probabilmente non abbastanza, però i ringraziamenti che ho ricevuto da cittadini qualsiasi che non conoscevo di Cassino e dei dintorni per il rientro e l'opportunità di ammirare questo stupendo pezzo sono stati tanti, non me li aspettavo. E quindi di nuovo la centralità, centralità che è stata resa possibile anche grazie, come ho detto in occasione del mio discorso di inaugurazione a ECNU, da questa capacità di annotare i fili di una sinergica collaborazione con il Ministero per i beni culturali, con la sovrintendenza per i beni archeologici del Lazio di cui abbiamo qui la sovrintendente, la dottoressa Calandra, con quella di Napoli e Pompei e Ercolano e ovviamente con il Museo di Cassino, tutti insieme siamo riusciti ad ottenere questo risultato e per capitalizzarlo ovviamente credo siamo qui oggi insieme con Alessandro Cecchi Paone che ringrazio per due motivi, innanzitutto perché ormai è un amico, fa parte della nostra comunità accademica, è un nostro docente, lo sapete, ma è anche un divulgatore specificamente legato a questo tipo di problematiche e quando gliel'ho prospettata telefonicamente, mentre lo stavamo organizzando insieme con i colleghi dell'Ateneo questo convegno, lui non ha avuto un attimo di esitazione, si è fatto mandare il materiale, è una bellissima idea ho anche detto come ti è venuto in mente, però insomma voglio dire ha percepito subito la forza dell'idea che c'era dietro ringrazio ovviamente la sovrintendente, l'ho già citata, il professor Coarelli che ha accettato di essere qui con noi oggi per parlare, perché dietro questa statua ci sono una serie di misteri, poi magari tra qualche anno qualcuno parlerà anche dei misteri legati al trasporto della statua e per chi stava a Cassino nel 2013, si interrogerà tra mille anni perché potrebbe essere, però per esempio a me è affascinato molto il fatto che è di un materiale non reperibile in Italia un marmo, l'ho letto marmo pentelico, che non è originario di queste zone, quindi primo dubbio è arrivato il blocco di marmo è arrivata la statua, veniva da una fabbrica attica, questo ce lo diranno i nostri esperti ringrazio il professor Polito che mi ha supportato nell'organizzazione di questo convegno e lui diciamo, io ho semplicemente creato l'occasione, come si dice, il calcio di rigore poi in qualche modo chi lo deve tirare lo deve buttare in porta, che non è sempre un'operazione semplice non vorrei dimenticare nessuno, abbiamo qui per l'amministrazione comunale l'assessore Costa il sindaco non riusciva a venire, il direttore del museo Silvano Tanzilli e poi il dottore archeologo Betori, ricordo Betori, ho sbagliato, sempre per conto della sovrintendenza e tutti insieme, coordinati da Alessandro, in qualche modo ci piloteranno all'interno dei misteri di questa statua che vi invito a vedere alla fine della manifestazione, ci spostiamo tutti quanti al museo per vederla dal vivo, dal vero, è molto molto bella una sola curiosità, questa statua è stata portata a Londra in occasione delle Olimpiadi come esemplare di, credo, di atleticità Ah, dimenticavo il professore Capelli, dove sta? Perché poi ci è venuto questo eccolo là, perché tra l'altro ci sarà un intervento anche dal punto di vista anatomico uno studio anatomico, il professore l'ho visto l'altro giorno che sul piedistallo della statua se la guardava e in qualche modo la analizzava, la misurava ci dirà quali sono i risultati di tutto questo Ok, grazie a tutti e buon convegno Grazie a Magnifico Rettore che ha dimenticato di dire che è vero che sono stato entusiasta per questa specifica occasione, ma lo sono sempre, in realtà, quando lui chiama o i suoi più stretti collaboratori con la processa Taricone che li vedo a corro in questo caso però c'erano appunto una serie di elementi che avevano a che fare con la mia lunga attività di divulgazione anche nel campo storico, archeologico e artistico e nell'attività che qui si svolge di analisi della comunicazione, dei suoi sviluppi per quanto riguarda almeno la facoltà dove ho la fortuna di insegnare Ci sono due o tre cose che devo dirvi introduttivamente per rendere ancora più stimolante e anche un po' thriller questo nostro incontro, tra poco capirete perché ma visto che i politici hanno tanti problemi io non lo dico prima dei saluti del rappresentante del sindaco così gli crea un problema in meno anche perché lui essendo visto assessore all'urbanistica, alle attività produttive insomma con l'aria che tira, imu e non imu, penso che non posso creargli i problemi che sto per creare sulla nostra statua, la chiamo così volutamente quindi le do la possibilità di essere generico per evitare di ficcarsi nel guaio in cui mi sono ficcato io, poi capirete perché, prego Ma io più che generico ci posso sorvolare del tutto innanzitutto voglio fare i complimenti al rettore, magnifico rettore per la sua prestigiosa nomina a coordinatore dei rettori della presidenza dei rettori del Lazio per la prima volta questo è avvenuto abbiamo letto sulla stampa stamani e quindi con orgoglio noi salutiamo questa nomina da parte dell'amministrazione comunale io il compito porto intanto i saluti del sindaco Petrarcone è impegnato in un'importante riunione al COSILAM al di là dei saluti voglio aggiungere un altro grazie perché proprio per i campionati nazionali universitari che si svolgono qui a Cassino, forse come amministrazione comunale siamo riusciti a o meglio abbiamo trovato la spinta per realizzare la pista di atletica cosa non facile perché noi abbiamo dovuto reperire nel bilancio ordinario le somme necessarie per poterla completare e non era una cosa scontata e facile all'inizio però noi non potevamo consentire che la nostra città dovesse trasferire altrove questo importante appuntamento questi sono giorni importanti per Cassino e per questo dicevo l'amministrazione comunale dice grazie all'università per l'impegno profuso e per essere riusciti a portare i campionati qui è un vanto per la città, certo per l'università ma lo è per la città e anche per l'economia di questa città che ne ha tanto bisogno naturalmente durante le serate di queste settimane, di questi giorni sono particolarmente movimentate ci sono gli spettacoli la sera ma c'è anche tanta gente che protesta e che comunque abbiamo cercato di trovare forse il punto di equilibrio tra chi alle dieci e mezza di sera esce, mi riferisco ai giovani e quelli meno giovani che invece vanno a dormire c'è stato qualche inconveniente, vero Presidente Calcio con giovani vigili però quando io devo dire, devo confessare che quando qualche cittadino viene a protestare per la solerzia dei vigili urbani io sono contento perché passiamo da un momento di lassismo ad un altro invece di efficienza poi naturalmente i problemi che si lamentano a volte possono essere risolti l'eroe di Cassino, ricordavo il rettore, è l'emblema diventato dei campionati nazionali universitari ma è stato un fatto importante averlo riportato, aver riportato questa statua qui a Cassino per tutto quel che rappresenta e tutto ciò che c'è da dire verrà detto da altri successivamente quindi tanti ringraziamenti a lei magnifico rettore e ai suoi collaboratori per quanto ha realizzato in questa occasione un grazie di cuore dall'amministrazione comunale quindi non mi rimane che augurare buon lavoro, buon convegno, grazie grazie a lei Assessore, siccome io difendo sempre i giovani a quelli che protestano per quattro giorni in cui Cassino vive dica che avranno tutta l'eternità per riposarsi e quindi per quattro giorni non rompano le scatole anzi stasera ditemi che c'è e vado anch'io a fare casino e vediamo un po' eh no dai ma che ti pare possibile? Già fosse questa la Villumiere, Las Vegas sì ieri sera ha ballato anche il rettore, la Villumiere eh beh capisci posso farlo pure io che sono un semplice professore a contratto che c'è stasera? Diciamolo, dove? sempre a te, c'è una cover di Vino Caetano ma bello ah bello, bello, bellissimo chi non c'ha voglia vada direttamente a dormire al cimitero allora, perché è divertente questo convegno oltre che di altissimo livello accademico e perché secondo me è ancora più interessante perché come sapete tutti hanno detto, è stato ricordato anche a Londra viene considerato un atleta quindi un simbolo dello sport un simbolo dell'attività fisica non a caso noi abbiamo individuato questo titolo per dire che lo sport è certamente espasimo è perfezione, è ricerca della vittoria, è gioia della vittoria ma è anche riposo, è anche dimensione umana è anche momento di sconfitta o di ripensamento, di preparazione, di sacrificio dovete però sapere che entrando uno dei relatori, non vi dirò chi, così la cosa vi sollitecherà ancora di più autorevolissimo come sono tutti quanti mi ha detto guardi che quello non è un guerriero non c'entra niente con lo sport io dico professore allora che siamo venuti a fare qua? se lei me lo diceva prima non facevamo il convegno pare che non sia un guerriero pare che non abbia nulla a che fare con lo sport però insomma per dirvi che ci sarà da essere particolarmente interessati io ho avuto fortuna perché si fida di me il rettore mi ha chiesto un parere sul titolo e ho detto guerriero questo mi ha salvato mi ha salvato perché potevo dire anche il riposo dell'atleta e invece in questo modo io sto messo bene anche con questo autorevolissimo personaggio che ci dirà che non è un atleta che non c'entra nulla con i campionati che quindi non può essere il simbolo dei campionati e che quindi non ha senso parlarne qui oggi perché siamo qua per i campionati purtroppo non ho tolto la parola sport perché per me lo sport è importantissimo ci ho dedicato anche il mio ultimo libro uscito poco più di un anno fa capirete voi stessi chi è che sostiene che non dovevamo essere qui oggi a parlare di sport a proposito di questo signore io lo chiamerò signore a questo punto non vi dico chi è intanto vi dico che la prima parola la do per un fatto proprio di logica può essere lui non essere lui colui che poteva parlare ma appunto a con lei in questo caso che ci ha consentito di averlo chiunque sia questo personaggio perché chi fa il mio mestiere sa che le sovrintendenze sono da un lato un baluardo contro il degado, lo sperpero, la barbarie ma anche spesso un problema perché non si riesce o a riprenderle le opere d'arte non si riesce a farle vedere non si riesce a valorizzarle figuriamoci a spostarle quindi lo spostamento avvenuto secondo tutti i crismi e perché noi pensavamo fosse un atleta per i campionati nazionali universitari è dovuto e per questo la ringraziamo al sovrintendente per i beni archeologici del Lazio pensate quante robe meravigliose gestisce a sotto di sé Elena Calandra prego, grazie buonasera a tutti allora devo dire per onestà che dobbiamo ringraziare però pariteticamente la dottoressa 54 che stasera non è potuta venire della sovrintendenza speciale di Napoli che ha permesso l'operazione e poi diciamo che l'operazione è stata guidata dall'alto dall'architetto Recchia che è il segretario generale che ha avuto molto a cuore questa vicenda ed è appunto il segretario generale del ministero nostro per i beni e le attività culturali due parole perché io sono sempre proprio brevissima molto sintetica e anche perché queste mie poche parole faranno poi da cerniera rispetto agli interventi a contenuto scientifico io ho scelto di non intervenire scientificamente anche se sono coinvolta perché in una vita precedente ho studiato la scultura però ho detto preferisco far parlare gli altri quindi io mi attengo alla definizione di cosiddetto atleta e così salviamo il tutto guardiamo, ripartiamo proprio dalla statua per un processo che giustamente il professor Cecchi Paone ha sottolineato le sovrintendenze baluardi sul territorio una grande fatica a fare qualsiasi cosa anche quella minima però le sovrintendenze tra i vari compiti gestiscono anche i musei statali come è il museo di Cassino al quale poi siamo tutti invitati allora i nostri musei versano in condizioni gravissime per mancanza di fondi per mancanza di personale di tutto però un'occasione come questa cioè il ritorno temporaneo per un anno della statua del cosiddetto atleta ci permette di in qualche modo di ripartire non è più la stagione delle grandi roboanti mostre non per noi sovrintendenza per i beni archeologici del Lazio salvo eccezioni perché alcune mostre le facciamo pure però io ho adottato questa filosofia piuttosto che la mostra roboante ripartire umilmente dall'allestimento dalla risistemazione dei materiali dal conoscere dalla messa in valore di quello che già abbiamo senza andare a cercare ulteriormente e quindi quando mi sono trovata in questa situazione l'ho accolta molto favorevolmente perché la statua del cosiddetto atleta proviene da qui e quindi viene restituita per un tempo limitato al suo contesto originario ma anche perché ha dato il pretesto per ripensare un po' l'allestimento del museo un po' per volta per ritornarci sopra l'architetto Tanzilli ha predisposto un piedestallo nuovo di Zecca che ancora odora di vernice per accogliere la statua ma già questa introduzione di questo elemento centrale focalizzante come vedrete in museo si riverbera favorevolmente sulle vetrine intorno che hanno come un altro significato proprio in rapporto a questo focus centrale quindi ripartiamo da lì ripensiamo il museo un po' per volta le difficoltà ci sono bisognerà mettere le didascalie bisognerà però è tutto un lavoro progressivo che si farà al museo di Cassino così come negli altri musei di competenza del Lazio almeno per quanto mi riguarda quindi una giornata che serve per riflettere per noi sul significato del messaggio che vogliamo dare non solo alla cittadinanza di Cassino ma in generale in fondo Monte Cassino è visitatissima quindi dobbiamo includere assolutamente nel percorso di visita anche il museo nostro insieme al museo civico insomma dobbiamo ripensare un po' tutto e poi serve proprio questa giornata per ripensare sulla base della documentazione vecchia e nuova che abbiamo a disposizione non vado oltre voglio solo proprio da ex studiosa di scultura insomma fare una notazione qualunque cosa poi so già un po' conosco i contenuti di quello che si dirà perché comunque l'articolo fondante di partenza è quello del professor Coarelli sul paradigma indiziario insomma è stato un articolo importante proprio dal punto di vista della metodologia però ecco il convegno di oggi per come è articolato a più voci accoglie anche in questa componente atletica la componente anatomica come è stato detto appunto di analisi anatomica e va ricordato che c'è sempre che le due componenti lo studio della scultura e lo studio dell'anatomia sono sempre andate di pari passo tant'è vero che Winkelmann era per esempio era molto diciamo molto animato dallo studio anatomico perché aveva fatto anche studi di medicina e un altro un grandissimo storico dell'arte puro appartenente un po' a un'altra epoca Alessandro della Seta pure che ha scritto il nudo nell'arte era figlio di medico e aveva proprio si era dedicato allo studio della scultura anche attraverso proprio le conoscenze anatomiche che gli derivavano dagli studi del padre dalla frequentazione del padre quindi l'atleta cosiddetto riguardato sotto mille aspetti sfaccettature diverse qui chiudo poi siete invitati tutti in museo stavo chiedendo al rettore che non me l'ha data che non ha fatto in tempo l'autorizzazione di aprire qui un concorso cioè come chiamiamo questo signore visto che potrebbe essere un cosiddetto atleta potrebbe essere un guerriero a Napoli potrebbero dire semplicemente un bello guaglione però insomma bisogna provare una definizione stiamo facendo per chi conosce dica qual è si chiama Ciro ma quello no Ciro è un dinosauro scusi mi ne intendo queste cose non è possibile c'è un dinosauro che si chiama Ciro lo troviamo in un altro però 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 io ho molta fiducia del professor Capelli che infatti non farò non farò parlare prestissimo glielo devo dire mi dispiace si faccia portare un caffè perché dandoci la spiegazione anatomica dovrebbe poterci dare degli indizi importanti perché l'anatomia di un atleta ha delle caratteristiche che lui ci spiegherà così come gli studenti presenti di scienze motorie oppure l'anatomia i muscoli di un guerriero sono riconoscibili piuttosto che di un bello guaglione che non tiene nulla da fare perché è figlio di papà a sua volta quindi potrebbe darci lui la risposta su cosa faceva Ciro ma Ciro è pure il rettore oltre che un dinosauro non si può fare allora io vado seguendo un filologico per cui chiedo al professor Bettori un po' di notizie sul ritrovamento della statua visto che dobbiamo fare una sorta di processo indiziario per chi è appassionato di cose antiche siamo quasi ad Artemidoro 2 il famoso papiro che non si sa se era vero o se era falso e noi stiamo facendo qualcosa di simile questa è vera ma non si sa chi diavolo fosse vediamo se in base ai ritrovamenti a tutto quello che si è capito del luogo e delle modalità del ritrovamento capiamo qualche cosa della vera identità di Ciro alias il cosiddetto atleta prego grazie ecco io ho scelto come vedete uno sfondo attinente insomma dunque la statua venne rinvenuta nel 1936 questa persona è il professor Carettoni che si laureò con Ennio Quirino Giglioli nel 1933 34 in quell'anno accademico con una tesi su Cassino come sapete insomma è il diciamo l'autore degli scavi fondamentali delle sistemazioni fondamentali di Cassino nell'anteguerra tra il 34 e il 36 e poi successivamente anche soprattutto noto il suo lavoro sulla necropoli preromana fu poi diciamo soprintendente all'antichità di Roma i suoi scavi iniziarono diciamo con dei sondaggi nel 1934 quando questa zona del Lazio era sotto diciamo il così le cure della soprintendenza di Napoli diciamo in quell'epoca si stava andando costituendo la provincia di Frosinone tutta questa zona fino credo insomma gli anni della guerra era però di competenza della soprintendenza di Napoli tant'è vero che prima ancora della creazione delle soprintendenze alla fine dell'Ottocento alcuni materiali di questa zona io mi sono occupato per esempio di alcuni materiali di Fabbrateria Nova di San Giovanni in carico finirono niente di meno che al museo provinciale di Capua che allora insomma era sede di una commissione provinciale della provincia di Caserta per le antichità di terra di lavoro ecco questi sono dei documenti interessanti autografi del Carettoni riprodotti in studi cassinati devo ringraziare l'amico Emilio Pistilli per avermi fornito questi materiali che lui ha pubblicato più di dieci anni fa ormai in studi cassinati ecco il risultato degli scavi del 1936 in quanto il professor Maiuri sovrintendente all'entichità di Napoli e Pompei credo allora anche se poi le sovrintendenze hanno cambiato tante volte nome e denominazione insomma oggetto della loro attività e decise di liberare il teatro di Cassino questo fu possibile con fondi dell'amministrazione della provincia che si era appena costituita di Frosinone e anche con donazioni private anche dello stesso padre di Carettoni che era un importante esponente diciamo dell'elite economico-politica dell'epoca sapete che all'epoca insomma gli studi di archeologia e la liberazione dei monumenti delle città romane era utilizzata naturalmente per fini politici questo è risaputo ecco il teatro come si presentava alla fine dei lavori di Carettoni che durarono per molti mesi tra il maggio e il settembre del 1936 dopo l'esecuzione di tasti nel 1934 che servirono anche per capire quanto in terro ci fosse quanto in terro andasse rimosso per la liberazione del monumento parliamo proprio di liberazione del monumento perché all'epoca la metodologia di intervento nello scavo archeologico era proprio questa si parlava di liberazione dei monumenti e si facevano dei grandi sterri poco documentati purtroppo in questo caso comunque Carettoni poter edigere un giornale di scavo abbastanza circostanziato poco tempo fa si è parlato ad un convegno sul Palatino della sua attività insomma anche negli importantissimi monumenti d'età augustale del Palatino bisogna dire che Carettoni aveva una certa sensibilità per l'epoca almeno e quindi quello che lui potesse seguire naturalmente non scavava lui in prima persona ma scavavano decine di operai è stato abbastanza bene documentato ecco come si presentava il teatro alla fine dello scavo insomma questa è una planimetria naturalmente ricostruttiva del Carettoni che poi pubblicò un importante studio sul teatro di Cassino in notizie scavi del 1939 ecco il teatro di scavo come si presentava fisicamente quelle righe che ho sottolineato si riferiscono proprio al ritrovamento della statua essa venne fuori dal pozzo grande della scena alcuni ritengono probabilmente a sproposito che questo pozzo sia ad una fase successiva sia un pozzo post-antico scavato per qualche motivo diciamo nella scena dinanzi alla scena la scena Frons del teatro romano in realtà era invece appartenente alla fase antica del teatro quindi il fatto che la statua sia stata trovata spezzata all'interno di questo pozzo a due metri di profondità è un indizio che ci porta a pensare che essa si trovasse nella sua primitiva sistemazione oppure in una sistemazione secondaria rispetto ad un possibile primo utilizzo nell'ambito della decorazione della scena Frons del teatro ecco come si presentava la statua rotta in più pezzi alcuni dei quali peraltro erano stati rinvenuti già nel 1934 quindi non tutto probabilmente si trovava all'interno di questo pozzo ecco la statua come si presenta oggi quando insomma è potuta ritornare nel museo che prende il nome dall'archeologo che ha avuto il merito diciamo cui è stato attribuito il merito della scoperta a Gianfilippo Carettoni ecco io ho fatto poi un tentativo anche perché queste occasioni sono anche importanti per noi che cerchiamo di capire qualcosa dei monumenti che ci sono affidati come tutela una sorta di registro insomma dei ritrovamenti principali la scena e fronze di questo teatro diciamo come si è venuta a sistemare in età romana con vari interventi probabilmente successivi nel tempo prevedeva sicuramente come elemento qualificante un colosso di Augusto una statua colossale di Augusto che doveva decorare la scena e fronze del teatro attorno a questa statua di Augusto si doveva trovare diciamo un ciclo di statue relative sicuramente ad Augusto e alla famiglia imperiale sappiamo del ritrovamento ad esempio di una testa che venne giudicata di età Giulio Claudia di cui credo non si abbia notizia perché le cose che non vennero portate a Napoli hanno subito poi anche il disastro della guerra molto si è conservato qualcosa probabilmente è anche di importante è andato perduto e la statua del cosiddetto eroe di Cassino faceva parte di questa sistemazione di questo apparato statuario adornare la scena del teatro probabilmente anche questa statua che è attualmente conservata a Copenhagen trovata alla fine dell'Ottocento doveva fare un po' da pandan secondo l'ipotesi di un collega che è molto interessato di Cassino Massimiliano Valenti con quella dell'eroe cosiddetto di Cassino non sappiamo effettivamente quale se questa statua potesse sostenere un ritratto perché è una statua che rappresenta il personaggio mitico di Milleagro se potesse avere o meno come dicevo una statua a ritratto a coronarla è dubbio se potesse essere diciamo montata a pandan del cosiddetto eroe è anche probabile però il problema della decorazione sia scultorea che architettonica della scena e fronze del teatro di Cassino rimane ancora da esaminare sicuramente può essere questa occasione del ritorno dell'eroe di Cassino anche un buon diciamo una scusa per così dire per farci porre dei problemi che non sono stati forse adeguatamente sviluppati a livello scientifico adesso lascio la parola al professor Quarelli che ci spiegherà mi ero anche preso scusate il posto del mio del mio omonimo professor Cecchi Paone cui ripasso volentieri la parola grazie caro professore lei mi poteva avere anche ragione però adesso il professor Quarelli si rilassa perché non tocca a lui perché questo mio percorso iniziario mi consiglia di rinviare cortesemente non se ne abbia male il suo intervento anche perché dobbiamo affastellare tutta una serie di dati prima di arrivare a delle possibili conclusioni allora abbiamo sentito definirlo cosiddetto eroe cosiddetto atleta guerriero nessuno ha ancora detto cosiddetto ma insomma Ciro inteso sia come rettore che come dinosauro secondo me prima di arrivare al professor Quarelli abbiamo ancora chiedo anche la vostra collaborazione insomma sia sull'identità professionale che su eventualmente il suo nome avanzo l'ipotesi da totalmente profano non è il mio settore né accademico né professionale un'altra cosa la butto lì che è stato trovato in un teatro poteva essere un attore no vedo che ho detto una stupidaggine dalla sua alzata e sopracciglia però voglio dire qui tranne stiamo dicendo decine quindi io ho detto la mia sappiamo che la verità è solo una quindi tutte sono stupidaggini io metto la mia l'hanno trovata in un teatro poteva essere un attore prima di vedere se poteva essere un atleta grazie all'anatomia resista qua pronti fatemi un altro microfono è il professor Quarelli che mi ha fatto scaricare il microfono perché non gli ho dato la parola subito allora chiedo al professor Polito di dirci nell'atletismo antico greco romano classico si si me ne prendo completamente la responsabilità il professor Quarelli non faccia cacciare nessuno dalle università sono io che ho cambiato la scaletta e me ne assumo la responsabilità allora adesso le do tutto chiarisco perché l'ho invitata non tema l'ho spostata ma non tema lei sopravviverà a questa cosa allora forse accademicamente no umanamente sì perché ci dirà dal punto di vista della cultura greco romana e classica come doveva essere il corpo e quindi la rappresentazione del corpo di un atleta dell'antichità grazie posso rubarle il posto oppure ecco sì io confesso di avere un testo scritto per atavica in sicurezza contavo di parlare dopo Filippo Quarelli e forse parlare prima mi alleggerisce un po' perché parlare dopo le sue parole che saranno sicuramente pesanti sarebbe stato senz'altro più impegnativo mi è capitato un'altra volta di parlare dalla stessa tribuna di Filippo Quarelli per fare una sua piccola laudazio a Frosinone qualche tempo fa in questo caso proverò a parlare di tutt'altro sfuggendo il confronto che sarebbe comunque impari qualche tempo fa durante la laboriosa preparazione del trasferimento della statua a Cassino un eminente collega di questo ateneo non poteva trattenersi dall'esclamare ma quello sembra un macellaio e abbiamo un altro nome per il professor Cecchi Paone per il suo elenco e non faccio ovviamente il nome del collega che peraltro mi pare non sia presente sia sempre comunque benedetto sia detto per inciso chi ha il coraggio di dire che il re è nudo sia pure in questo caso mantenendo il massimo rispetto per la categoria dei macellai di cui sono un affezionato estimatore da carnivoro convinto come dargli torto l'attrezzo si gira da che parte così un personaggio maturo dal corpo possente ben allenato forse sono appena un po' allentato da un incipiente pinguedine della maturità il cui volto però la cui testa non sembrano avere nulla a che fare con la prassi dell'allenamento sportivo intendiamoci tanti atleti conservano nel viso tracce di anni e anni di fatica laboriosa ma dall'aria niente affatto sportiva ricordiamo la buonanima di Pietro Mennea con quel viso scavato che separato dal corpo asciutto scattante e nervoso mai avrebbe fatto supporre in lui uno degli sprinter più esplosivi della storia del resto non tutti sono Carl Lewis eppure il volto da macellaio del nostro atleta ha una spiegazione ed è un capitolo della stessa complessa storia di cui farà parte anche tutto l'altro aspetto che verrà illustrato poi da Filippo Coarelli la storia del corpo atletico raffigurato nudo mille volte nell'arte greca mille mille volte poi in tutti i classicismi della storia si può declinare in molti modi qui mi limiterò a una carrellata cercando di mettere in luce alcuni punti a proposito della nostra statua con l'obiettivo di toglierci tutti dall'imbarazzo aiutandoci scusate a eliminare quella sensazione duplice di familiarità e di straniamento che ciascuno di noi prova davanti a una statua nuda antica o moderna che sia la scienza moderna non crede più che lo sport sia un'invenzione esclusiva del mondo greco sappiamo ormai che sport greco lo sport greco è preceduto e affiancato da fenomeni assimilabili allo sport in varie parti del mondo antico e moderno persino nel medioevo epoca asportiva per definizione nel senso comune sembra che attività assimilabili allo sport non siano mai del tutto scomparse quello che pare però incontrovertibile è che solo nella cultura greca la cura della forma fisica e la pratica della competizione sportiva si siano inserite in un modello culturale complessivo in cui hanno giocato un ruolo centrale altrove nelle culture dell'oriente in Egitto ad esempio sono l'abbigliamento gli attributi e i gesti a caratterizzare la raffigurazione più o meno stilizzata del corpo umano che in quanto tale non pare però avere una rilevanza centrale o almeno non nella forma del corpo atletico mentre può caricarsi ovviamente di valenze simboliche si pensi all'importanza dell'integrità del corpo nella pratica funeraria egizia del resto lo stesso avviene nella tarda antichità e nel medioevo quando la raffigurazione del corpo torna a farsi stilizzata e simbolica la ripresa dell'attenzione per il corpo a partire dal rinascimento sarà un fatto artistico ed estetico innescato dall'imitazione dell'antico senza avere ricadute sulla cura della forma fisica presso i contemporanei il corpo potrà essere portatore di significati simbolici pensiamo al valore taumaturgico del corpo del re o al corpo dei santi come reliquia ma in modo del tutto indipendente da eventuali pratiche di cura sportiva del corpo stesso il valore dello sport e del corpo ben allenato fermo restando che la parola sport è una parola moderna come mi faceva giustamente notare il professor Coarelli poco fa in una conversazione il valore dello sport e del corpo ben allenato nel mondo classico non è però qualcosa che appare all'improvviso e rimane immutabile si definisce attraverso diversi secoli di storia sullo sfondo delle tante competizioni sportive che si svolgevano periodicamente fra tutte le olimpiadi dovrei usare forse piuttosto la parola atletiche o agonali e nella vita quotidiana dei ginnasi il ginnasio infatti era il luogo della formazione a tutto tondo dei giovani greci che comprendeva non solo l'allenamento sportivo scusate finalizzato alla partecipazione a competizioni e battaglie ma anche la trasmissione di conoscenze leggi norme comportamentali adeguate al ruolo di cittadino è in questo quadro che il corpo maschile nudo con la muscolatura in evidenza viene letteralmente inventato dai greci il processo inizia già in epoca molto antica come vedete ma è soprattutto a partire dal VI secolo avanti Cristo che troviamo scene di palestra e poco dopo si afferma anche nella grande scultura il tema dell'atleta impegnato nell'atto sportivo o incoronato come vittorioso ma il tema della pratica sportiva è sottinteso anche nella possente muscolatura di statue di giovani non impegnati in alcuna attività o impegnati semplicemente a lavarsi dopo l'allenamento come quello che vedete a destra la pittura dei vasi mostra del resto un ampio repertorio di scene atletiche che confermano che quello o almeno quello era uno degli obiettivi degli allenamenti gli artisti continuano per secoli ad elaborare formule e soluzioni intorno alla figura dell'atleta nudo che si confonde e identifica nell'immaginario collettivo con l'eroe omerico o addirittura la divinità il doriforo di Policleto a sinistra è Achille Teseo o un atleta il diadumeno quello accanto l'atleta che si cinge la testa con la benda dello stesso Policleto è ritenuto da alcuni un atleta da altri un Apollo o un Paride ma sappiamo con certezza che statue di atleti vincitori erano comuni nei santuari greci è l'eroe è il dio che è raffigurato come un atleta e non viceversa la pratica sportiva l'allenamento certificato nella bella muscolatura sono garanzia di vittoria nelle competizioni che conferiscono fama e carisma Alessandro Magno e i re e dinasti suoi contemporanei e successori adotteranno in pieno questa formula ma stavolta per raffigurare se stessi sono rappresentati infatti come dei guerrieri vittoriosi eroi e anche atleti assorbendo in questo modo il carisma che deriva dalla vittoria anche dalla vittoria sportiva presto il mito dell'atletismo si diffonde anche in Italia dischi dal lancio strigili sarebbe quell'attrezzo che vedete in alto a sinistra che serviva per detergersi e altri oggetti connessi con lo sport insieme alle corone simbolo di vittoria compaiono ovunque nell'Italia antica si discute ancora su quanto questo modello agonistico abbia effettivamente attecchito fuori dalla Grecia in particolare in Etruria e in Italia probabilmente si tratta solo di simboli di status però comunque la pervasività di questo modello è impressionante vista la quantità di materiali di questo tipo nelle tombe dell'Italia antica a Roma ma peraltro esistevano pratiche sportive da tempi assai antichi se vogliamo così definire le corse dei carri ma in realtà anche altro il pugilato ad esempio ma non si affermò mai un ideale di formazione e di competizione atletica come quello greco la nobiltà romana intendeva l'esercizio fisico come una pura pratica paramilitare o tutt'al più come un lusus un gioco da praticarsi entro cerchie ristrette non nella forma agonistica pubblica che aveva prodotto il mondo greco la tradizione atletica continuerà però nell'impero nelle tante città di lingua greca nella stessa Roma a Roma si avrà una sorta di olimpiade lagone capitolino fondato da Domiziano anche se era uno spettacolo prima di tutto con atleti che provenivano dal mondo greco a Roma evidentemente non c'è spazio per un ideale fondato sulla valorizzazione del corpo oltre che della mente la celebre frase mens sana incorpore sano che è tratta da una satira del cittadino aquinate giovenale non significa affatto quello che crediamo cioè che l'una sia il frutto dell'altro è solo l'auspicio che gli dei concedano entrambi nel mondo romano non a caso la lunga tradizione artistica di elaborazione della figura umana nuda si interrompe e si riproducono soltanto i tipi greci copiati o tutt'al più variati infinite volte quello che viene assorbito a Roma è la cultura greca nel suo complesso il paradigma culturale forse più pervasivo della storia insieme alla cultura popolare americana le tante immagini di ispirazione greca nel mondo romano non sono che le tessere di un mosaico culturale in cui i romani si specchiano continuamente da cui traggono sempre nuovi spunti per conversazioni più o meno dotte o di cui più semplicemente fanno collezione in quanto simboli dello status raggiunto o a cui aspirano non c'è un'alternativa e il mondo agonistico ne è una parte integrante Roma conquista il mondo greco nel giro di pochi decenni durante il secondo secolo a.C. i personaggi romani e italici che visitarono il Mediterraneo orientale a seguito della rapida conquista romana di quelle regioni sia che fossero i conquistatori stessi o i tanti mercanti che andarono a sfruttare i nuovi mercati aperti dalla conquista romana rimasero profondamente colpiti dalle forme di ostentazione di potere adottate dai re ellenistici che abbiamo visto prima questi si presentavano come abbiamo visto in veste di dei eroi ed atleti quasi a riassumere in sé tutte le virtù che il mondo greco aveva elaborato nel corso dei secoli in queste forme fra le quali rientrava la nudità atletica romani e italici videro un veicolo di autoaffermazione potentissimo in quanto comportavano comportava l'assimilazione a un'ideologia di potere l'idea di farsi rappresentare in statue si combinava poi perfettamente con una tradizione romano-italica che a differenza di quanto avveniva nel mondo greco prevedeva la realizzazione di ritratti di personaggi privati non di rango regale sebbene appartenenti a famiglie eminenti che si conservavano in casa e si mostravano ad esempio durante le cerimonie funebri di lì a richiedere agli scultori greci da parte dei committenti romani e italici statue che combinassero il glorioso ideale atletico del corpo nudo con una testa che ritraesse realisticamente ciascuno dei committenti il passo era breve era quasi come avere una foto da carta d'identità che rendeva ciascuno unico e inconfondibile ma allo stesso tempo ottenere anche la certificazione del carisma di personaggio vincente come diremmo oggi che la forma greca della nudità atletica bastava a conferire nell'isola di Delo nel bel mezzo dell'Egeo sotto la protezione di Apollo prosperava un porto franco affollato di mercanti italici non pochi di questi scelsero di farsi raffigurare in questo modo siamo intorno al 100 avanti Cristo diciamo grosso modo del signore a destra conosciamo il nome si chiamava Ophelio Fero ed era forse un mercante di schiavi dunque non un personaggio di grande classe di lui conosciamo il corpo ma purtroppo non la testa mentre quello a sinistra che è una sorta di suo gemello conosciamo la testa e il corpo in forte contrasto fra loro ma non il nome purtroppo le orecchie a sventola il cranio suto forse ricavato dalla maschera mortuaria spiccano per contrasto con il fisico poderoso non a caso questo signore è noto convenzionalmente come lo pseudo atleta dicevo che siamo intorno al 100 avanti Cristo da questo momento imperatori principi condottieri privati cittadini di ogni angolo del mondo romano sceglieranno in alternativa o alla toga o alla corazza questo o quel tipo di statua greca nuda raffigurante in origine un atleta o un dio o un eroe ma convolti riproducenti più o meno fedelmente i tratti fisionomici dell'interessato talvolta chiaramente in decadenza in aperto contrasto con la tonicità dei corpi stessi ottenendo ai nostri occhi un effetto ridicolo si giustifica così l'aspetto del personaggio che abbiamo qui a Cassino così bene caratterizzato dagli interventi che mi hanno preceduto e che mi che seguiranno un uomo eminente degli anni intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo raffigurato come un un personaggio in momento di riposo ma pronto a riprendere subito l'azione con la mano destra pronta a sguainare la spada ispirato a un modello appunto di statua divina eroica atletica che si identifica sostanzialmente cose che si identificano sostanzialmente dalla mimica del volto con le sopracciglia sollevate e corrugate al centro emergono maturità concentrazione prontezza pur nella probabile fedeltà fisionomica sono evidenti anche i tratti comuni con i volti dei re ellenistici a sinistra un re greco a destra e anche con i condettieri romani a destra in alto Pompeo mentre la figura a destra in basso è stata definita a torto Cesare ma è uno splendido ritratto degli stessi decenni come è possibile che non si percepisse questo contrasto aperto fra i due aspetti quello del corpo giovanile atletico e del volto maturo e per niente sportivo il fatto è che noi siamo abituati ormai da secoli a un'estetica in cui il corpo umano è concepito come una fusione di elementi coerenti e in più in generale a un'estetica in cui il tutto armonico tendenzialmente naturalistico prevale sulle parti ma non è sempre stato così e del resto non è così neppure oggi dopo il ciclone delle avanguardie artistiche del novecento che avevano come obiettivo polemico proprio quella tradizione estetica nell'epoca arcaica in Grecia non diversamente da quanto avveniva e avviene in tante altre culture di ogni parte del globo prevaleva un'estetica additiva in cui la qualità era data da quella delle singole parti giuste apposte a prescindere dall'effetto eventualmente disarmonico che potevano produrre adesso vi risparmio un passo di Platone che sarebbe penso troppo per la vostra sopportazione nell'età classica si era fatta invece strada una concezione estetica basata sull'armonia delle parti che avrà grande successo e sarà la base dell'arte occidentale fino a tempi assai recenti ma è evidente che nell'antichità al di fuori del mondo greco questa nuova estetica non si affermò mai del tutto se non superficialmente nella mentalità del personaggio romano che fu raffigurato in questo modo cioè appunto il nostro cosiddetto atleta e in quella nella mentalità di coloro che per secoli lo ammirarono nel teatro di Cassino l'effetto straniante che proviamo noi semplicemente non si produceva perché prevalevano i singoli valori trasmessi dall'aspetto delle singole parti adesione a un ideale di potere carismatico e di vittoria suggerito dal corpo nudo ripreso dalla tradizione greca da un lato dall'altro una forte caratterizzazione individuale combinata con elementi convenzionali allusivi a qualità intellettuali e morali nel volto e nella testa del resto l'estetica naturalistica armonica in cui il tutto prevale sulle parti è entrata in crisi già nell'antichità e poi nel medioevo pensate all'effetto dirompente del cubismo oggi osannato ma osteggiato allora e digerito solo dopo generazioni a livello collettivo così dovremmo in generale accettare la possibile coesistenza di più parti in ciascun tutto anche della testa di questo attempato signore e del corpo allenatissimo e armonico di cui più tardi ci parlerà l'amico e collega Giovanni Capelli lascio io la ringrazio perché è stata una splendida lezione da cui trago per il nostro gioco allora le nuove definizioni di macellaio di re nudo nudo è sicuramente l'unica cosa che possiamo dire ma forse l'indicazione più interessante dal punto di vista specifico è che la testa è troppo vecchia per essere la testa di un atleta contrariamente al corpo e questo ci potrebbe dire molto ma tutto ci dirà invocato come avete sentito da tutti quanti il professor Filippo Cuarelli dell'Accademia dei Lincei professore a lei e grazie e scusi per averla fatta attendere qui c'è anche un un credo un laser un laser sì quello laterale probabilmente ma come fa a puntarlo e già non lo posso puntare se vuoi forse allora mi metto al centro bene funziona bene io a differenza di intanto ringrazio per l'invito che mi riporta in terre conosciute dal momento che io come l'archivio del dottor Tansilli siamo originari di un piccolissimo luogo del Frosinate che è la frazione Caprile del comune di Roccasecca tra l'altro si era detto appunto dell'importanza di poter avere la professione di medico per studiare appunto un corpo come questo io sono un membro di una famiglia che ha dilazzato essendo figlio e nipote e cugino di medici ma insomma questo forse interessa meno ora la cosa che forse può essere utile e viceversa è che io ho già scritto una serie di cose su questo signore già dal 1992 tre articoli uno in Cthema in la rivista francese nel 1992 un altro in gli studi in onore di Frova nel 1995 e infine la Revue di Estudio Latina nel 1997 poi ci sono state altri interventi proprio sulla rivista di Cassino che tutti conoscete questa studi Cassinati anche replicando un articolo uscito appunto di Bettori e di Tanzilli quindi in realtà io la mia idea ce l'ho sull'identità di questo personaggio quindi non dirò cose nuove potete se volete leggervi questa serie di cose noiosissime ma cercherò di essere breve e chiaro più possibile nei limiti del possibile non è facile la mia opinione la dico subito senza stare a fare troppi misteri è che si tratti di un personaggio conosciuto conosciutissimo Marco Terenzio Varrone cioè forse il più grande poligrafo dell'età ciceroniana autore di numerosissime opere molte delle quali furono scritte nella sua villa di Cassino come ricorda Cicerone suo contemporaneo e amico quindi un personaggio di rango senatorio non arriva mai al consolato ma solo all'apertura legato moltissimo a Pompeo legato a Cassino e attraverso una serie di elementi naturalmente sarebbe stato meglio se ci fosse un'iscrizione che avesse dichiarato il suo nome ci risparmieremmo molti discorsi purtroppo questo non c'è quindi siamo obbligati a un procedimento indiziario appunto a un paradigma indiziario come dice Yersborg ma ci arriveremo per tappe allora perché di questo si è detto anche un tempo si è ripetuto recentemente che potrebbe essere una persona invece di Cassino ma di altissimo livello ora però c'è un piccolo intoppo si è pensato appunto a Gaius Humidius Quarratus che è forse il personaggio più noto di rango senatorio di Cassino la sua figlia forse ancora più nota Humidia Quarratilla ci ritorneremo subito ci sono solo altre due famiglie di rango senatorio di origine Cassinata che sono i Futi e gli Uvultroni il problema però è che sono tutti del primo secolo dopo Cristo intorno al 50 dopo Cristo e anche dopo ora come già stato detto infinite volte recentemente anche da Michaela Fuchs nel libro che è dedicato alla decorazione dei teatri questo signore non può in nessun caso essere un Medius Quarratus perché è più vecchio di un centinaio di anni circa perché lo è? ma perché esiste come dire una serie di studi a cui non posso che aggregarmi soprattutto di lingua germanica sulla retrattistica romana imperiale ma anche repubblicana per cui possiamo dire con tranquillità che sul piano stilistico anche per il panneggio eccetera e su questo non dirò nulla perché se no dovrei parlare troppo a lungo e poi sarei noiosissimo è un personaggio vissuto grossomodo nel secondo quarto del primo secolo avanti Cristo quindi diciamo fra il 75 e il 50 un po' prima e un po' dopo e quindi possiamo eliminare tutti i Cassinati non è possibile che sia un personaggio di Cassino perché il rango di questo personaggio è un rango sicuramente senatorio come ha mostrato anche Polito mostrando gli ultimi ritratti quello di Pompeo su cui ritornerò tra l'altro allora viene dal teatro è stato già detto giustamente da Betori che il pozzo in cui è stato trovato non è un pozzo medievale probabilmente è un pozzo antico e che l'ha stato probabilmente è stata gettata volutamente nel pozzo insieme fra l'altro ai frammenti di un'iscrizione altri frammenti sono stati trovati sulla scena del teatro e questo potrebbe aiutare a identificare il personaggio che quindi ha avuto come dire alterne fortune diciamo così cioè a un certo punto è stato volutamente tolto dalla scena del teatro dove sicuramente era collocato in origine direi certamente nella nicchia che si trova al di sopra nella porta centrale del teatro e che era poi più tardi sarà più tardi occupata probabilmente dalla grande statua di Augusto di cui ci sono frammenti al museo ma che è sicuramente un'aggiunta più tarda come quelle di Lucio Cesari e poi anche più tardi ci furono restauri come vedremo ora se questo è vero è un primo indizio è una statua che è stata volutamente eliminata e in qualche modo condannata naturalmente questo è un indizio discutibile ma può essere interessante ora quali sono gli elementi se la statua appartiene al teatro noi abbiamo e le iscrizioni appartengono alla statua noi abbiamo una serie di elementi tutti indiziari se questi tre elementi architettura iscrizioni e statua sono collegati ognuno di questi elementi è vettore diciamo di una cronologia di uno stile di una cronologia che permettono di come dire fissare ancora meglio nel tempo il personaggio prima però di andare avanti volevo ricordare alcune piccole regole del gioco che si tende spesso a dimenticare quando si argomenta e si contro argomenta esiste una forma direi di vischiosità che diventa tradizionale cioè voglio dire una volta che si sia fissata una data un'identificazione per un edificio una statua un'iscrizione questa sia stata come dire proposta da una persona autorevole poi seguita fino a diventare una cosa di senso comune praticamente è difficilissimo tornare indietro cioè dimostrare che si tratta in realtà di un'altra cosa perché questa vischiosità resta e per cominciare uno studio la prima cosa da fare è fare tabula rasa togliere qualsiasi discorso precedente eliminarlo e ripartire da zero naturalmente questo non significa che si debba arrivare del costruzionismo del ridiano lasciamo stare di arrivare per forza a una conclusione diversa può darsi che si arrivi alla stessa conclusione però è anche possibile che si arrivi a una conclusione diversa quello che conta sono gli argomenti non le tradizioni e gli argomenti se gli argomenti non sussistono la traduzione non serve a nulla quindi due sole soluzioni esistono in ogni ricerca scientifica tre diciamo o stabilire una verità no? questa cosa è questo signore per esempio è varrone se è così oppure semplicemente accettare che non ci siano argomenti per arrivare a una conclusione accettabile cioè praticare quello che i greci chiamavano epochè sospensione del giudizio se ci sono invece contro argomenti che dimostrino che questo personaggio non è varrone benissimo ma devono essere argomenti dello stesso peso di quelli che invece a mio avviso tendono a dimostrare che questo è varrone ci sono tre argomenti a favore quattro argomenti a favore nessuno contro questo personaggio è varrone fino al momento in cui si troveranno cinque argomenti contro e allora questo personaggio non è più varrone se non si accetta che sia varrone e non ci sono argomenti per dimostrare che non lo sia l'unica soluzione è appunto astenersi cioè non arrivare a soluzioni lasciare la questione in sospeso finché altri argomenti altri elementi ci permettano di arrivare a una soluzione qualsiasi più accettabile allora partiamo dunque dall'inizio cioè dunque quello di destra penso sì questa è una pianta molto schematica del complesso teatro anfiteatro museo vedete lì sulla destra in nero e tomba detta anche questa di un media quadratilla io ritengo che sia la tomba di Varrone ma non ne parlerò oggi il teatro è stato da carrettori definito un teatro augusteo a mio avviso non è augusteo per i seguenti motivi è stato detto anche recentemente che il teatro di Cassino riflette direttamente lo schema di Vitruvio del teatro latino che vedete in basso il teatro latino è costruito vedete l'orchestra e questo cerchio in basso la figura è un po' appiattita non è colpa mia forse il proiettore vedete che con quattro triangoli equilateri disposti nel modo che vedete si ricostruisce la posizione della cavea della scena e dell'orchestra dal cui risulta vedete che in pratica ah si uso questo per questa composizione necessariamente la cavea non è un semicerchio perfetto ma è un sezione di cerchio mentre il teatro di Cassino vedete lo stesso schema riprodotto è un perfetto semicerchio quindi non è stato costruito con lo schema vitruviano quindi possiamo dire subito vedete per esempio che il cerchio nel teatro di Cassino va a definire la scena mentre nel teatro di Vitruvio la scena è definita da questa linea che taglia il cerchio quindi assolutamente lo schema non è quello di Vitruvio voi mi chiedete vabbè sono due teatri contemporanei agustei che hanno schemi diversi c'è qualche problema intanto Vitruvio non è uno scrittore augusteo mi sembrerà strano ma Vitruvio stesso nella prefazione dice di essere vecchio di aver servito il padre di quello che chiama imperator Cesar cioè futuro Augusto e quindi è un personaggio che riflette una cultura non augustea ma repubblicana tardo repubblicana cesariano triunvirale del resto la data di pubblicazione del De Architettura l'unica opera che abbiamo sull'architettura antica sistematica di Vitruvio è sicuramente anteriore al 27 a.C. è stato detto dopo il 27 no prima del 27 per un motivo semplicissimo perché la dedica è fatta a imperator Cesar cioè ad Augusto prima che diventisse Augusto Augusto diventa Augusto assume il nome Augusto nel 27 a.C. prima si chiama imperator Cesar di Vifilius quindi è il nome di Augusto fra diciamo il 43 e il 27 quindi certamente la prima edizione dell'architettura è anteriore al 27 probabilmente intorno al 30 anche se in un libro di Vitruvio lui parla di Augusteum per la Basilica di Fano ma è stato dimostrato che è un'aggiunta successiva dopo il 27 a.C. quindi già il teatro di tipo Vitruviano lo schema in basso è un teatro che esiste già nel 30 a.C. e direi che dovrebbe essere stato in qualche modo teorizzato quindi realizzato già a partire dall'età triunvirale cioè dal periodo che va dalla morte di Cesare appunto al 27 a.C. ora anche qui si potrebbe dire benissimo i due schemi sono contemporanei il guaio è che tutti i teatri tutti senza eccezione almeno che io sappia pre-Augustei diciamo ancora triunvirali degli anni 40-30 e poi Agustei sono tutti costruiti secondo lo schema Vitruviano e inoltre hanno delle caratteristiche della scena sempre ripetute che sono al centro la regia cioè la porta centrale è inserita in una nicchia semicircolare e le due laterali gli ospitali sono a pianta rettangolare il teatro di Cassino non ha queste caratteristiche neanche nella scena neanche nel restauro che è stato fatto in seguito e che evidentemente ha conservato la forma originale quindi né la scena né la cavea hanno niente a che fare con lo schema Vitruviano e siccome lo schema Vitruviano si afferma dagli anni 40 e continua a essere utilizzato per tutto il periodo Giulio Claudio la mia spiegazione ragionevole mi sembra è che il teatro di Cassino sia anteriore allo schema Vitruviano quindi anteriore perlomeno agli anni 30 probabilmente prima e questo è un primo passo queste sono fotografie non ottime insomma ma di muri relativi relativi al teatro l'impressione che si ha all'inizio se uno non va a vedere con attenzione è che si tratti di opus reticulatum regolare in realtà se si guarda bene si vede che l'opus reticulatum regolare è tutto il restauro carrettoniano qui vedete tutta la parte al di sopra della linea che traccio è il restauro di carrettoni questo si è impigliato da qualche parte qui lo stesso così quindi tutta questa parte in reticulato regolare non è antica è moderna se guardate invece la parte antica in basso è ancora meglio qui vi accorgete facilmente che questo è un reticulato piuttosto irregolare lo stesso tra l'altro che si adopera l'anfitario vedete sono pezzi è quello che veniva chiamato con nome moderno io lo chiamerei reticulato irregolare ma insomma quasi reticulato ed è una tecnica che a Roma si sviluppa a partire dalla fine del secondo secolo a.C. ovviamente in tufo quindi il reticolato il calcare pone più problemi di lavorazione il calcare è più duro del tufo quindi non è mai regolarissimo però è sulla base di tutti i confronti che abbiamo nel Lazio dativoli eccetera è qualcosa che si può datare nella prima metà del primo secolo a.C. forse nel secondo quarto tendenzialmente quindi anche la tecnica edilizia del teatro di Cassino non è augustea ma è pre-augustea aggiungo qui non ho portato la fotografia purtroppo è pubblicata in carrettone adesso è una parte un po' rovinata che ci sono degli elementi di mattoni scusate il tecnicismo si chiamano morsature a vela sono delle inserzioni angolari in mattoni che hanno una forma di vela cioè sono triangolari ma con un lato curvo ed è una tecnica qui voglio proprio in due battute eliminare un mito un altro mito cioè che l'uso del mattone sia esclusivo dell'età imperiale l'opera la terizia si usa larghissimamente a partire dal secondo secolo a.C. però questa tecnica particolare del quasi reticolato con ammorsatura a vela si trova per un brevissimo tempo e solo in pochissimi edifici tutti ben datati che sono le terme di Cales di Tassillana o immediatamente Postillana e soprattutto gli edifici costruiti a Pompei da magistrati della colonia cioè la colonia fondata nell'80 che sono il piccolo teatro l'anfiteatro le terme del foro e la porta marina che sono tutte databili tra il 78 diciamo avanti Cristo e il 65 questa tecnica poi non si trova mai più trovarla nel terro di Cassino casomai sarebbe l'esempio più recente perché io lo daterei tra gli ultimissimi anni 60 e i primi anni 50 quindi terzo elemento l'economia che combina perfettamente con gli altri e ci riporta gli anni sicuramente diciamo verso la metà o poco prima della metà del primo secolo avanti Cristo l'iscrizione tra l'iscrizione in frammenti umidiaga i fili squarratilla e in gran parte di ricostruzione la parte originale sono solo questi frammenti qui e questo però come dire le iscrizioni romane sono modulari cioè sono ripetitive per cui a volte da un frammento molto limitato si riesce a ricostruire il testo completo Quadratilla è sicuro questa signora la conosciamo molto bene la figlia di Umilius Quarratus di cui si parlava prima e di cui parla Plinio il giovane in una lettera dicendo che era morta un personaggio straordinario muore a quasi 80 anni nel 107 d'Avo Cristo data della lettera di Plinio ed è una dama molto moderna insomma che amava molto gli attori in particolare i pantomimi si capisce che è restaurato all'altare e amava molto giocare a scacchi ma in ogni caso qui leggiamo che questa Umilia Quadratilla Teatrum Patrisui certamente Vettate Vettustate sua pecunia restituit eccetera eccetera e poi fece una festa allora siamo sicuri che Umilia Quadratilla ha restaurato il teatro di Cassino l'iscrizione viene dal teatro quindi l'edificio è quello Vettustate con l'Apsum o un altro verbo analogo che quindi era in pessime condizioni per la sua antichità per la sua vecchiaia e qui c'è Patrisui io credo che la restituzione non sia quella di fora ma si aggiunge in coatum cioè i lavori furono cominciati da Umidius Quadratus e completati dalla figlia allora a questo punto abbiamo una data abbastanza precisa Umidio Quadrato è pretore nel 18 console nel 40 avanti Cristo è proconsole in Siria dal 50 al 59 o 60 quando muore in Siria quindi praticamente non è stato presente a Cassino sicuramente fra il 50 e il 60 e probabilmente anche nel corso delle legazioni precedenti quindi probabilmente i lavori sono stati cominciati forse all'epoca del suo consolato nel 40 ma non li ha completati lui ma li ha completati la figlia e li ha completati o dopo la sua morte per testamento quindi dopo il 60 o semplicemente dal 50 quando il padre era assente quindi siamo chiaramente alla metà o piuttosto forse poco dopo fra la fine del periodo neroniano e se vogliamo più tardi l'inizio del periodo Flavio ma insomma diciamo piuttosto periodo neroniano allora Vetustate è sicuro allora si può dire che un teatro era in condizioni pessime per vecchiaia quando secondo la teoria per esempio pensa bene l'ho data addirittura in età medio tardo Augustea quando fra questa data e il restauro sono passati 30 o 40 anni se noi prendiamo tutti i casi analoghi e sono numerosissimi questo non avviene mai cioè Vetusta significa almeno 70 80 100 anni non 20 30 40 ecco questo vi risparmio di farvi la lista ma insomma si può fare quindi questo è un altro elemento che ci porta a una data piuttosto antica diciamo rispetto al 50 circa dopo Cristo quindi andrebbe bene di nuovo una data di 100 anni prima e sarebbe il quarto indizio per una costruzione del teatro diciamo in età tardorepubblicana poi c'è l'iscrizione trovata nel insieme alla statua dove due iscrizioni questa è veramente stata trovata nella scena e dà il nome di un architetto e adesso non rientro manca un frammento sarà pubblicato presto in un articolo che mi è stato detto uscirà fra poco però c'è un nome di un architetto lasciamo stare difficilmente ricostruibile potrebbe essere si legge IA o TA poi forse una P o una R poi una S ma non importa e poi la professione Arcit Ectus c'è la T longa rarissima che si ritrova anche nell'altra iscrizione che vedremo e c'è alcune forme che hanno indotto molti a pensare sia un'iscrizione Agustea qui vi dovete fidare non è un'iscrizione Agustea per esempio la A che vedete a sinistra questa se fosse Agustea avrebbe le due barre verticali una più larga e una nettamente più sottile quindi siamo in una fase matura della paleografia romana ma anche la R con questo elemento diretto leggermente curvo che parte dalla metà della curva diciamo è la T longa e vedremo anche il punto di interpozione che si trova nell'altra iscrizione non danno la possibilità di dare questa iscrizione in età Agustea potrebbe essere Agustea iniziale ma soprattutto se vediamo l'altra iscrizione leggiamo un patr praef l'iscrizione era certamente inserita nella scena del teatro e vediamo anche qui la T longa la R assolutamente identica a quella quindi è sicuro che queste due iscrizioni vanno insieme e sono contemporanee sono l'iscrizione dell'architetto del teatro e del personaggio che ha dedicato e fatto costruire il teatro penso che potremmo essere d'accordo tutti una E con la barra alla stessa altezza cioè anche qui la A vedete con barra è praticamente della stessa larghezza e soprattutto il punto triangolare con il vertice in alto che non si trova in piena età Agustea anche questa iscrizione a mio avviso si data intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo e vi mostro dice è di marmo certo che è di marmo ma anche la statua è di marmo a Roma si fanno templi di marmo da 146 avanti Cristo e le iscrizioni di marmo sono infinite in età repubblicana anche di queste vi risparmio la lista vi faccio solo vedere questa iscrizione purtroppo una pessima fotografia di marmo di una tomba che il primo molto abbastanza più evoluta di quella che abbiamo visto prima ma con molti elementi simili la R anche la V ma soprattutto questo personaggio è da tagliere perché è un altro architetto il quale è stato Prefectus Fabrum di Quinto Lutazio Catulo quando era console e è stato architetto dello stesso personaggio che è un dell'ascensore queste sono due date precise 78 e 69 quindi questo personaggio questo architetto non può essere nato più tardi del 110 avanti Cristo questa è la sua iscrizione funeraria quanto lo facciamo vivere? facciamolo vivere 70 anni per esempio questa iscrizione sarebbe del 40 avanti Cristo sfido chiunque qui a dire che anche la cua barra di cioè questa sembra proprio Augustea più dell'altra ma ve ne faccio vedere altre due ancora più chiare questa iscrizione che anche sembra molto Augustea guardate la forma della R per esempio che è abbastanza particolare comunque è stata fatta è un'iscrizione di un personaggio che è morto Pridia nona squintiles Greo Pompeio cos terzium consul terzium quindi è un'iscrizione del 52 avanti Cristo e quella sottostante è l'iscrizione di Gaius Vibius Pansa Cetronianus morto è la suscrizione funeraria nel 44 avanti Cristo la battaglia di Modena quindi l'iscrizione si dà dal 43 anche questa molto Augustea sembrerebbe è più matura di quella che vedete per esempio il punto triangolare rivolto verso il basso poi cercherò di pubblicarne molte altre ma insomma e questo l'abbiamo già visto è lo stato del ritrovamento della statua che aveva i piedi e sono stati ritrovati recentemente nel museo di Napoli questa è la prima ricostruzione che ne è stata data questa è la situazione attuale vi dicevo che in conclusione noi abbiamo un teatro che per forma è tardo repubblicano per tecnica edilizia è tardo repubblicano per l'iscrizione dedicatoria è tardo repubblicano anche se questo si può discutere che recava una statua che si data in età tardo repubblicana intorno al 50 sono quattro indizi non esiste nessuno a mia conoscenza che abbia come dire che ci spinga a datare il teatro in età gustea non ne conosco siamo quattro a zero quindi ci sono due soluzioni o è il teatro è tutto questo degli anni intorno a 60-50 oppure dobbiamo sospendere il giudizio perché non abbiamo argomenti non ci fidiamo di queste datazioni benissimo però non si deve ricorrere al giochetto di dire ma forse come fa a pensare bene è un teatro arcaizzante usano schemi più antichi che questa è una statua arcaizzante oppure cioè stiracchiare come gomma americana le nozioni in modo di farle rinuncide con i propri pregiudizi perché in realtà il giudizio su questo teatro che sia di età gustea è un pregiudizio basato sul nulla sul nulla quindi non è un argomento da opporre a questi quattro argomenti che possono essere tutti criticabili e eventualmente anche sbagliati ma si aspetta ancora argomenti in senso contrario che dimostrino appunto che si tratta di un teatro agusteo altrimenti tutto il resto è fuffa chiacchiere identikit questa statua non è un atleta dicevo ho detto molto bene è un personaggio di altissimo rango che si fa fare una statua da un autore ellenistico probabilmente attico teniesi in marmo pentelico che è rappresentata con in mano una spada il lancio della spada non fa parte delle discipline olimpiche è in riposo ma vigile sta aspettando di entrare in azione ed è in una posizione particolare che io credo si spieghi con il fatto che lui sta sulla prua di una nave con la gamba sinistra alzata la prua sale in atteso di saltare sulla nave nemica questo lo dico perché abbiamo intanto vi mostro il Pompeo di Palazzo di scusate di Venezia che è il confronto a mio avviso più vicino alla nostra testa è stato datato anche dopo il ritratto di Pompeo di cui abbiamo molte rappresentazioni ma è sicuramente il ritratto più antico di Pompeo Pompeo molto più giovane dell'altro il ritratto tipo di Pompeo si data sicuramente dopo il trionfo del 61 forse il secondo consolato questa è sicuramente precedente ritengo che potrebbe venire da Dello e ha la stessa posizione della testa della statua di Cassino girata verso sinistra era parte di una statua naturalmente guardate come sono lavorati i capelli per esempio il tipo della plastica facciale e soprattutto la parte posteriore ecco vedete il movimento abbastanza analogo anche se leggermente girato più verso sinistra guardate il modo di lavorare la capigliatura nella statua di Cassino e quella di Pompeo ma soprattutto la parte posteriore che è praticamente identica io ritengo che il Pompeo sia il modello a cui si ispira la statua di Cassino ma questo lo dico anche in base a una serie di studi fatti dalla Rocca su base di monete soprattutto per cui il tipo dell'eroe con la gamba alzata che riprende un tipo di Poseidon Nettuno rovesciato che si trova in due altri esemplari che mostrerò rapidamente e poi chiuderò deriva proprio è stato fatto per una statua di Pompeo forse quella che decorava la celebre curia di Pompeo ai piedi della quale cadde Cesare nel ide di marzo del 44 d'Anticristo in ogni caso credo che anche il Pompeo abbia a sua volta una ascendenza che sia in realtà la statua di Emerio Poliorceta che si trovava a Delo sulla nave che era stata stessa della vittoria di Salamina contro Telomeo I Soter che era stata esposta nel Neorion cioè nel grande hangar che si trova a Delo e dove sono state trovate iscrizioni dei Pompeiastai cioè di una venerazione di Pompeo da vivo come Dio cioè accanto trovate accanto a quella al luogo dove era la statua di Emerio Poliorcete di cui è stata mostrata prima una statuetta di bronzo che viene da Ercolano nella stessa iconografia rovesciata con la gamba alzata questo è il cartilio poplicola di Ostia che ripete lo stesso schema ed è sicuramente questo me l'ha mostrato recentemente un bravissimo restauratore danese che l'ha restaurata ed è una statua rilavorata tutta la parte in basso qui è rilavorata e quindi la statua vado velocissimo apparteneva a un personaggio diverso ed è stata riutilizzata per cartilio poplicola il cartilio poplicola che vive diciamo che opera ad Ostia fra il 40 e il 30 avanti Cristo circa abbiamo la tomba e sappiamo che il respinse è un attacco di Sesto Pompeo un attacco navale quindi il modello è sempre un modello navale e però la statua precedente era di un Lucilius Gamala che è un po' il boss di Ostia in età pompeiana legato a Pompeo e che partecipò con una sua nave alle guerre piratiche di Pompeo nel 67 avanti Cristo c'è una terza statua questo è sempre lui che sta a Erdonia va bene non importa stesso modello in più ha un rostro sulla base allora Varrone ha comandato la flotta di Pompeo nel settore Fraddello e la Sicilia ed è il primo romano che ha ottenuto la corona navalis prima di Agrippa un'orificenza particolare che si dava solo al comandante di una nave che era saltato per primo sulla nave nemica e l'aveva catturata che è esattamente la posizione del personaggio rappresentato qui allora Varrone è stato a Delo subito dopo la distruzione piratica è legata a Pompeo è contemporaneo di Pompeo allora vediamo il nostro portrero il nostro identikit il signore nudo è un personaggio di livello senatorio quindi non un casinate per definizione perché è datato nel secondo quarto del primo sacro d'anticristo però in rapporto con Casinum ed è un patronus come dimenticato di dire che lì c'è patronus prefetture nell'iscrizione non so se posso tornarci rapidamente che è una cosa assolutamente sicura questa è una data patronus prefetture cioè il patrono di Cassino quando era una prefettura Cassino diventerà poi municipio quasi certamente nel 49 municipio con duoviri quindi cesariano io ritengo anche colonia triunvirale ma lasciamo perdere qui non conta quindi la prefettura di Cassino ci dà una data anteriore anteriore al 49 avanti Cristo e un patronus prefetture può essere solo anteriore al 49 avanti Cristo Varrone possiede una grandiosa villa a Cassino la più importante che fu saccheggiata dove aveva la sua biblioteca principale che andò distrutta nel momento in cui lui fu proscritto nell'autunno del 43 avanti Cristo e si salvò solo perché fu ospitato da Fufio Caleno che era un Antoniano ma anche amico di Varrone salvò la pelle poi Ottaviano lo perdonò quindi è un personaggio che è stato condannato che ha avuto una proscrizione prescrizione che lo ha portato un proscritto significa che perdeva le sue proprietà e veniva ucciso come Cicerone del resto quindi è il patronus prefetture prima del 49 avanti Cristo con estrema probabilità è Varrone tanto più che il patronus di Cassino nel 44 43 è un personaggio Quintus Pedius Marcifilius di cui è stata recentemente qualche anno fa pubblicata l'iscrizione il quale è una creatura di Ottaviano e di Antonio ed è uno di quelli che ha fatto redatto le proscrizioni del 43 nel 44 43 nel 43 muore nel 44 è patronus di Cassino beh voglio dire nel 43 viene proscritto Varrone troviamo questo signore quello che ha fatto le proscrizioni che probabilmente si è imparionito forse come triunvir della colonia del colonia del Ducende della proprietà di Varrone ritengo comunque continuando il nostro identikit e chiudendo un personaggio di Verna Senatorio ma non un Cassinate in rapporto con Casinum probabile patronus e comunque proprietario di una grande villa importantissima che lui descrive Varrone della rustica ambientata nel 54 quindi la villa esisteva già prima del 54 probabilmente viene acquistata con i soldi della preda della guerra piratica quindi dopo il 67 forse dopo il 61 rappresentato come autore di una vittoria navale che con Cassino certamente non ha molti rapporti in rapporto con Pompeo confronto al rilato di Pompeo a mio avviso fino a prova contraria e Varrone grazie grazie professore una meraviglia accademica la sua lezione in termini più generalisti gli fa un baffo a Montalbano abbiamo complicato l'opera di Capelli che a questo punto ci dovrà veramente dire se ha più il corpo di un vittorioso guerriero di una battaglia navale un attimo ancora un secondo ci siamo quasi a saperlo prima avremmo convocato anche un parrucchiere perché abbiamo visto quanto è importante anche la forma e l'acconciatura per decidere questa attribuzione visto il livello straordinario dei personaggi qui riuniti non svolgo la relazione che cortesemente mi era stata assegnata dal magnifico rettore ma vi faccio vedere tre minuti di una cosa che abbiamo preparato con il mio assistente il dottor De Luca e con i ragazzi e le ragazze soprattutto del corso di quest'anno di cinema tv e documentaristica che raccontano come sono stati utilizzati e strumentalizzati i corpi classici nella cultura contemporanea ricordo Polito il professor Polito lo ha già fatto lo stadio dei marmi di età fascista nel foro italico di Roma ricordo più recentemente l'utilizzo di analoghe statue fatte dalla pubblicità della superga ma certamente il punto di riferimento di questa strumentalizzazione sono state le olimpiadi naziste del 36 a Berlino che sono state tramandate da un genio del documentarismo cioè Leni Riefenstahl la quale approfittando della copertura del comitato olimpico internazionale che la difese da Hitler e da Goebbels in particolare certamente tentò di suggerire insistentemente questo parallelo fra il corpo atletico greco soprattutto e romano ma non accettò di tagliare la scena fondamentale del non una in realtà le vittorie furono tre di Jesse Owens che in quanto americano e in quanto nero mise in burletta la teoria razzista nazista della prevalenza della razza ariana allora se la regia cortesemente può mandare in onda questo breve filmato grazie grazie a tutti ariana 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Bene, a tutti. Bene,错. Grazie a tutti